Pochi giorni fa il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, ai nostri microfoni ha sollevato una questione. Il centro per l'impiego deve lasciare gli spazi di Via Milli occupati attualmente dal comune. In realtà è una vicenda che va avanti da diversi mesi. Come è noto, il centro per l'impiego è la gestione della regione e del comune di Teramo. Noi avevamo chiesto per interferenze sia dei dipendenti sia degli utenti di liberare otto stanze che stanno nel palazzo di Via Milli. Nella regione e nel comune hanno provveduto a sgomberare questi locali. Per fatalità ci sono state delle infiltrazioni dovute a delle rotture e dei malfunzionamenti dell'edificio e pertanto questi locali sono diventati inagibili. Ora abbiamo chiesto perentoriamente di abbandonare questi locali per evitare sia eventuali danni ai dipendenti e ancora peggio agli utenti. Speriamo che celermente si possa trovare una soluzione affinché non si incorra nel peggio. Di lì si è alzato un polverone e il comune, già attivatosi da tempo, ha pigiato sull'acceleratore. Il centro per l'impiego avrà una nuova sede, individuata nei locali dell'ex Cinema Pollo, a Piano Terra, in Largo Scarselli. L'intesa, condivisa con la regione Abruzzo, vedrà il trasloco del centro per l'impiego entro la fine di ottobre per consentire lavori di manutenzione dietro il pagamento di un affitto da parte dell'amministrazione che poi acquisterà i locali, come spiega l'assessore Domenico Sbraccia. Per sei mesi, in modo che finiamo di fare i lavori, dopo tornerà la regione, farà un soprallocco e si verifica l'acquisto. Se l'acquisto non si verifica, eventualmente il comune pagherà l'affitto dei cinque o sei mesi che è stato lì. Per quanto riguarda il locale, chiude o non chiude? Io non sono da polemiche, non sono da polemiche, non è bianco, rossa e verde. Però quel centro per l'impiego è da un anno che sta là, dalla mattina alla sera, non è che quell'aula è diventata inagibile, agibile o tanto meno. Sia ben chiaro questa cosa. Nel frattempo il centro per l'impiego resterà in via Milli.